Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone una casa sita in centro storico Pavia, più precisamente in Piazza Botta, vicino alla facoltà di Economia e Commercio. L'appartamento è adatto ad essere affittato a degli studenti universitari. Tre camere da letto singole, il bagno completamente ristrutturato e la cucina ampiamente abitabile. In questo appartamento c'è anche la lavatrice. Le linee dei bus che servono la zona sono quella del numero 3 che si può prendere in corso Cavour e porta la facoltà di Ingegneria, di Farmacia e di Medicina. La linea del bus numero 4 che serve la zona ovest di Pavia e la zona del Vallone che è zona nord. Altri servizi che abbiamo sono il supermercato S Lunga che dista a soli 200 metri. Stazione dei treni e dei pullman a 700 metri di distanza. Ok, adesso diamo un'occhiata alla cucina che, come vi stavo dicendo, è ampiamente abitabile. Tavolo per ospitare 4 persone, lavatrice, fornello e qua dietro frigorifero. Frigorifero nuovo. Ricordo che in questo appartamento il riscaldamento è autonomo, quindi è l'ideale per quegli studenti che fanno nei mesi invernali delle vacanze prolungate. Questa è qua l'ultima camera che l'hanno arredata singola, però eventualmente si potrebbe trasformare in camera doppia. Pavia Centro, Piazza Botta Legroni Immobiliare Non è questo l'immobile che cerchi le altre offerte su bilocalipavia.it